Neanes, profeta e prepursore dell'Avento di Cristo, non riusciamo a lodarti deniamente, noi che con amore Ti onoriamo, infatti la sterilità di colei che Ti ha partorito, e il mutismo di Tuo Padre sono sciolti nella gloriosa e onorata Tua nascita, e si anuncia al mondo l'incarnazione di figlio di Dio.